Chi di voi sa qual è il segreto del successo? Il segreto del successo è non avere segreti. Ed è questo il senso dell'esercizio di oggi. Davanti all'intera classe direte qualcosa che non avete mai avuto il coraggio di dire. Allora, ci sono dei volontari? Nick, eccellente! Ti cedo il posto, ragazzo. Molto bene. Mio fratello Mike è la persona più importante di tutta la mia vita. Dire il vero, lui è... Mike, niente commenti, per favore. Continua. Non gli ho mai detto... Ti ringrazio, Mike, perché tra noi due sei il migliore, il più affidabile e simpatico. Insomma, sei il mio idolo. E hai anche un grande talento. Io lo so che tu sei, Nick. Già, e ora sai che Mike è il buffone. Sì, ma non so ancora che sei tu veramente. Tu dovresti cambiare colore di capelli. Lo zucchero filato dopo due bocconi diventa nauseante. Non darle ascolto. Il color flamingo è meraviglioso. E voi due? Voi due gemelli? Non siete divertenti. Siete noiosi. Ciao. Ho così tante cose da dirti. E ho così tanti anni di cui raccontarti. Ma a dire la verità ho... Soprattutto domande. Chi sei? Ad esempio. E dove sei? Abbiamo gli stessi occhi. O magari lo stesso sorriso. Sai almeno che esisto. Papà. Davvero eccellente, Penny. Bravissima. Certo. Avete fatto un buon lavoro, ragazzi. Sono contento. Potete andare. Ci vediamo domani. Penny on Mars. La nuova serie. Dal 7 maggio alle 20.10. Solo su Disney Channel.